Cambia nei circuiti, non cambia la storia, non cambia il copiere di questa Formula 1 2020 che vede ancora una volta Lewis Hamilton dominare e vincere il Gran Premio di turno. A sto giro si correva a Imola 14 anni dopo, l'ultima volta. L'ultima volta era il Gran Premio di San Marino, questa volta il Gran Premio della mia regione, ovvero l'Emilia-Romagna, che appunto ha ospitato la Formula 1 dopo il 2006. Non è cambiato niente rispetto alle attese, nel senso che ancora una volta Lewis Hamilton ha vinto, e questa diciamo ormai non fa più notizia, ma è come ha vinto, umiliando di fatto i suoi diretti avversari, in particolare Valtteri Bottas, con una strategia onestamente in questo caso azzeccata, aiutata in realtà da un evidente colpo di fortuna, ovvero una virtual safety car. In questo episodio del Racing Podcast, in realtà è uscito al pomeriggio, non al solito ora delle 19, perché il Gran Premio l'ho finito di vedere poco fa, e dunque voglio che questo episodio sia molto caldo e il più recente possibile, ha ancora una volta siglato il record della storia della Formula 1 per quanto riguarda la Mercedes, perché la scuderia tedesca ha vinto il settimo titolo del mondo barche consecutivo, dunque va a superare quello che fu il dominio di Schumacher con la Ferrari dal 2000 al 2004, dove appunto i titoli costruttori vinti dalla scuderia di Maranello erano sei. Toto Wolf e i compagni sono arrivati a sette, soprattutto grazie alla prestazione di quest'uomo, che veramente ha vinto 93 volte in carriera con questa, e devo dire che questa è una delle vittorie probabilmente più significative della storia di Hamilton e della sua carriera. Non perché ha vinto, perché giustamente questo Hamilton è veramente ingiocabile, è un pilota che ammazza il campionato del mondo Formula 1 2020, ma è per come l'ha vinta. Hamilton per via di una qualificazione sbagliata, a suo dire, in realtà è merito di Bottas, ma dell'indicazione di Hamilton ce ne parleremo in realtà dopo, e anche per una gran partenza di Verstappen, che non è stata investigata perché l'olandese in realtà era leggermente fuori dalla sua posizione originaria nella piazzola, ma comunque per il commissario era tutto regolare, era arrivato davanti a Lewis Hamilton, il pilota inglese era in difficoltà, perché in questa pista non si può superare, e sul discorso di Imola ci torneremo anche quello più avanti, se non nel lungo rettilineo, Hamilton ha dovuto fare una strategia diversa, se Verstappen ha provato a fare un undercut, il pilota inglese ha fatto il contrario, ovvero l'overcut, stando fuori veramente tantissimi giri in più degli altri, sperando di avere una mescola, in questo caso la gomma bianca, più performante rispetto agli altri, cosa che in realtà è successa, ma perché c'è stata una virtual safety car che ha aiutato e non poco, in questo caso il pilota inglese che sì è molto bravo, ma in questo caso è anche fortunato, ma dopo tutto la fortuna aiuta gli autaci, come dice in un vecchio adagio popolare. In ogni caso Hamilton vince la 93esima vittoria in carriera, la 93esima gara meglio, il podio lo completa Valtteri Bottas, che veramente ancora una volta vince il premio sfiga del 2020, il podio lo completa Max Verstappen? No, lo completa Daniel Ricciardo, perché Max Verstappen ha un cedimento pazzesco alla gomma posteriore destra, come vediamo qui nelle immagini, e a 9 giri dalla fila succede l'irreparabile, ovvero il pilota olandese va fuori e si deve ritirare dalla gara, e dunque di fatto lascia a piedi la Red Bull a punti a secco in questa gara, perché appunto anche l'altro pilota, Alexander Albon, finirà fuori dai punti. Verstappen dunque abbandona ogni bellità di podio, podio che sarebbe stato assolutamente strameritato per la gara fatta dall'olandese, e lo regala di fatto agli altri che già stavano giocando, quindi Perez con la macchina rosa, Ricciardo con la Renault, Chiat con l'Alfa Tauri, la spunta alla fine il pilota italo-australiano Daniel Ricciardo, che fa il secondo podio in tre gare, dunque ottima prestazione per il pilota australiano. La classifica del campionato vede Lewis Hamilton ancora una volta iper-fanta-ultra-primo, probabilmente il mondiale lo vincerà in Turchia, qualora dovesse avere più di 100 punti di vantaggio all'ultima gara, anzi 75 è meglio, quindi probabilmente consideriamo che a Istanbul Park il pilota inglese vincerà il settimo titolo del mondo, e per il resto c'è la solita lotta per il quarto posto in un mondiale della Formula 1 2020 che va sempre più via via scemando, consacrando sempre più Hamilton come ancora una volta un fuoriclasse e il pilota da battere in questa era moderna. Gli altri piazzamenti, quarto torpedo, Daniel Chiat, che poteva fare la storia di questa gara, ovvero con l'Alfa Tauri, scuderia che ha sede a Faenza, quindi il paese accanto a Imola, fare il podio che purtroppo gli è sfuggito, quinto Charles Leclerc con il carretto Ferrari riesce a fare un'onorevole quinta posizione, e quindi un'ottima prestazione per quelli che sono in media della Ferrari, ovvero disastrosi. Sesta posizione per la macchina rosa di Sergio Perez, che rischia di stare a casa dall'anno prossimo in Formula 1, a meno che Albon non venga non confermato in Formula 1, e quindi lui e Ulchimer ci giocano nel posto con la Red Bull. Settima ottava, Lemie McLaren con Carlos Sainz, che ancora una volta batte Lando Norris, settimo ottavo dunque i due piloti della scuderia arancione, e non le decimole due Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen, 41 anni, ricordiamolo, nono, non era l'unico pilota che ha corso a Imola nella storia dei presenti, e decimo Antonio Giovinazzi, che fa ancora una volta una gara a punti, la seconda in tre gare, e la prestazione di Antonio Giovinazzi in realtà va rimarcata, perché il pilota pugliese partiva ventesimo, quindi in ultima posizione, e complice un pochino la grande partenza che ha fatto, perché ha montato sei posizioni al via, e la safety car di Verstapp, neanche la virtual, insomma Giovinazzi ha rimontato tantissime posizioni, e ha rimontato a metà dello schieramento per arrivare a punti, quattro punti per il pilota pugliese, e ancora una volta ottima prestazione per i mezzi che ha l'Alfa Romeo, in questo caso ovviamente molto poveri, tra l'altro Raikkonen e Giovinazzi sono stati confermati entrambi per l'anno prossimo, è una gara di Imola che ha regalato degli spunti, in particolare per via della safety car di Max Verstappen, che come vedete ha un ruolino di marcia impressionante, quando arriva al traguardo, perché ha sempre fatto podio, purtroppo per il pilota olandese vengono a mancare le gare dove appunto si è ritirato, altrimenti parleremo di un pilota veramente stracostante, di un pilota che in condizioni normali e con una macchina più performante, potrebbe secondo me addirittura contendere il titolo a questo Louis Hamilton, purtroppo non è così, e Verstappen dovrà accontentarsi di una terza posizione che non rispecchia in realtà il suo talento. La safety car di Verstappen in realtà dà anche uno spunto in generale di questo Gran Premio, ma non sulla gara in sé, che appunto di per sé è stata abbastanza noiosa, diciamo, ma perché appunto introduce il discorso di Imola in quanto tale. Il circuito di Imola, che qui torniamo a vedere rappresentato, per queste Formula 1 secondo me sta un pochino stretta, nel senso che a parte il lungo rettilineo e di fatto fino alla curva Tosa, non ci sono possibilità di sorpasso. Dalla Tosa in poi, quindi passando per le acque minerali, le due staccate della rivazza, la variante alta, insomma non ci sono per queste Formula 1 spunti di sorpasso e punti importanti. La differenza la poteva fare il DRS in rettilineo, ma non sempre era così. Evidentemente Imola con questa configurazione di queste macchine non è una pista che si può adattare a questa Formula 1, per quanto io sia contento di vedere il Gran Premio Diva dopo tanto tempo. Per la Superbike invece è un Gran Premio che va alla stragrande, infatti ci sono delle gare spettacolari tutte le volte che la Superbike viene a Imola, quando ci sono, e speriamo che ci sia così anche l'anno prossimo. Sulla Formula 1 è da rivedere, perché appunto con questa aerodinamica molto spinta delle vetture e con punti di velocità raggiunte in così poco tempo e degli allunghi di fatto per queste vetture non bastano secondo me per garantire una gara così spettacolare. A maggior ragione se lo spettacolo è per le posizioni del podio, ma perché c'è stata la posizione per il podio come spettacolo? Perché Verstappen si è ritirato, altrimenti parlavamo della solita gara in questa stagione con Hamilton primo, Vata seconda e Verstappen terzo, quindi con i tre piloti più competitivi evidentemente che si trattavano il podio. Il resto è di solito il classico equilibrio della Formula 1 che però riguarda le posizioni che di fatto contano meno, quindi dalla quarta alla decima posizione e così via. È un gran premio comunque che con delle macchine diverse ci potrebbe stare, così onestamente è un gran premio che lascia abbastanza a desiderare. Tra l'altro, ancora una volta, Hamilton ha dimostrato che cambia la pista, cambiano le condizioni, cambia anche il weekend, perché lei e Formula 1 hanno fatto un giorno in meno di prove. Insomma, l'uomo da battere è sempre lui e in questo caso l'overcut ha funzionato. Certo, la virtual safety car ha funzionato per lui, non per gli altri, però il pilota evidentemente è quello che deve essere battuto. Una menzione va fatta a Valtteri Bottas non per i premi di rider del giorno, driver del giorno, che dir si voglia, ma per il premio sfiga, perché se deve andare male una cosa in Mercedes, deve andare male a Bottas. Se casualmente arriva il momento sfigato di Bottas quando il pilota finlandese fa qualcosa in meglio di Hamilton, Bottas ha fatto una pole position straordinaria a sabato in qualificazione, Hamilton non l'ha presa bene anche nelle dichiarazioni, in questo caso il pilota in Mercedes ha fatto un po' l'arrogante dicendo che sì, Valtteri ha fatto un buon giro, ma io ho fatto schifo, testuali parole, insomma, non benissimo il pilota inglese, Bottas aveva fatto un weekend sontuoso perché è stato primo nelle libere, primo in qualificazione, partiva giustamente in pole position, e ancora una volta non riesce a concretizzare quel buono che riesce a fare in prova. Al Nürburgring gli si è spenta la macchina, qui ha danneggiato il fondo al giro numero 2 su 63 e capiamo bene che con una macchina danneggiata il pilota finlandese non poteva essere più di tanto, come io dico, tant'è vero che Verstappen, quando l'ha superato in pista, perché Verstappen è venuto a superare in pista, Valtteri Bottas, il pilota finlandese è preso 5-6 secondi in pochissimo tempo, segno che evidentemente in Mercedes, se qualcosa non va, non deve andare sulla macchina di Bottas, mentre Hamilton stava facendo un altro sport, sembra quando nella categoria della 24 ore di Le Mans corrono le Toyota sulla categoria dei prototipi e gli altri corrono sulle LMP2, quindi veramente un'altra macchina per non parlare delle categorie GT che sono quelle evidentemente in fondo alla classifica. In ogni caso, per la novantatresima volta della vita di Lewis Hamilton suona God Save the Queen in Formula 1, i premi, i driver del giorno in questo caso, è da segnare e onestamente considerato che gli altri due sono ingiocabili, ovvero le due Mercedes, per gli altri la spuntata Daniel Ricciardo che ancora una volta dimostra di essere in crescita, ma io volevo premiare lui, Daniel Chiat, perché il driver del giorno è comunque lui, perché Daniel Chiat è un pilota che non ha il posto sicuro in Formula 1 per l'anno prossimo, il suo compagno di squadra, ovvero Pierre Gasly, è stato confermato, l'Alfa Tario su questa macchina, su questa pista, scusatemi, era una macchina competitiva, Gasly ha fatto quarto in qualificazione, mentre Torpedo ha fatto ottavo e ci poteva scappare, vi dicevo prima, la storia dell'Alfa Tauri con sede a Faenza, quindi a 20 km da Imola, il podio nella gara letteralmente di casa, Chiat è anche cresciuto a Roma per 10 anni, quindi è un pilota che di fatto è italiano d'adozione, ma ovviamente corre con licenza russa, è un pilota veramente che potrebbe starci in Formula 1 per quello che si è visto in questa stagione e in modo di vedere e lottare con una Renault che è tecnicamente superiore all'Alfa Tauri, effettivamente è tanta roba, quarta posizione per Chiat che ha fatto solo 3 pod in carriera, ma comunque celebriamo il miglior risultato stagionale per Torpedo, il pilota russo. Di Giovinazzi, abbiamo già detto, una sontuosa decima posizione per il pilota italiano che si è meritato, la riconferma in Formula 1, Formula 1 che tornerà in Turchia tra due settimane all'Istable Park dove Hamilton probabilmente, anzi quasi certamente, vincerà il settimo titolo del mondo piloti a non adeguagliare Michael Schumacher già superato con il numero di vittorie. L'unico motivo vero di interesse è se Hamilton riuscirà a conquistare le 100 pole nella carriera e fermo a 97 con 4 gare dalla fine. Vedremo se da qui ad Abu Dhabi ce la farà. Intanto, fatemi vedere cosa ne pensate di questo Racing Podcast. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio dei post-gara e dunque appuntamento con la MotoGP che torna dopo una settimana di pausa.